Ciao ragazzi, qui per le Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi, Titans, raga stiamo facendo gli esami Io già li ho fatti, in realtà siamo venuti a fare Sto in corso Quindi, cioè, abbiamo portato lo starter delle Titans Che è andato molto bene, vi ringraziamo di ciò Però poi non l'abbiamo più portato perché praticamente abbiamo avuto difficoltà a vederci Ora riusciamo a fare questo video lampo Oggi siamo il 28, ci sono il 29 Quindi andiamoci a aprire i nostri primi sei pacchetti del box E li prendiamo proprio da sopra Giusto C'avete già detto che avete trovato card invincibile, cose incredibili Eccoli qua Domani, o comunque nei prossimi giorni, vedrete anche questo boxettino particolare Ma direi di partire Ah, oggi siamo soli e te, quindi abbiamo tre pacchetti a testa Ci sta Pacchettiamo un po' di più Andiamo con Lorenzo Insigne, ultima stagione col Napoli Dai Ok Questo è bello perché sembra un terare Sì Allora abbiamo Top Impact di Velofeu Bella Poi Casale Ruchi Scudetto della Lazio Molto figo Undici del Bologna E Cuore Pulsante Colibali di Tacchio No, c'è anche una sesta card che è la seconda pelle La maglietta e il sassuolo Ok, prime 6 card Non male, non male La do a rispulciarvi perché Eh giustamente, sì La rarità ragazzi Allora abbiamo Una invincibile diamante Un'invincibile titans Una su 50 busti Uh, cosa ho visto Queste sono le invincibili serie Cosa ho visto, eh, spoiler L'hanno vista prima gli iscrittite Bam! Bella Una gioia ragazzi Top Impact Di Bala ragazzi Mamma mia Guardate qua Bellissimo Ok, vorrei Uh, il VAR Comunque sì Una di ogni bustina In realtà questa è tutta la realtà molto Sì, sì Io ho trovato il VAR Ok Una su due Poi Una seconda pelle Della Lazio Poi abbiamo Uh, l'undici ragazzi dell'Inter Ok Bella roba ragazzi Poi Ciri Immobile Attacco Stellare Attenzione Insieme a Pedro Anche questa credo Aspetta È rara? No, no, no Allora, no Seriamente Attacchi Stellari No, fanno parte delle core cards No, no Vabbè Mi c'è ancora un po' ambientale Che abbiamo spacchettato tutte Sì, seconda pelle del Napoli Tra l'altro Una delle 18 magliette Qua ne mettono soltanto tipo Fino a quella di Maratona, dai No, ma ce ne sono altre 18 Sono quella di Halloween Bellissimo La maglietta di Halloween Fu veramente Particolare Se hai trovato un allenatore Uh Ma vediamo di trovare la roba seria Dai, dai Cioffi Nuova firma Mister Mi sa di sì Bella, dai Dzeko Top Impact Scudetto del Sassuolo Seconda pelle Empoli Maglietta Seconda pelle anche della Spezia Sto prendendo la maglietta E muro d'acciaio Skorupski E di Silvestri Può andare meglio Può andare molto meglio Può andare molto meglio Bru Ci proviamo Vai Vado io Vai con il tuo pacchetto Vediamo che esce fuori Uli Attenzione ragazzi Allora abbiamo Oddio Teun si chiama di nome Non l'ho mai visto Effettivamente ma chi l'avevo visto Copminers Ho sempre sentito Basta Ruki comunque ragazzi Ok Un altro var Sempre diversa la scena Mi piace Ottimo Poi l'undici del Cagliari In cui Sì hanno messo Gio Pedro ragazzi Fortissimo Poi Rogerio E Vlad Kirch Come muro d'acciaio Dai vediamo roba potente Roba potente E un altro muro d'acciaio Con Silvio Bellissime rarità Bellissime le carte Ma la rarità Un po' più rare Allora Cabral nuova firma Ci piace Ancora il VAR Troviamo una quantitativa A ripresa Oh McKenney Questa è bella E le rocatelli not bad Curi Baglia di Lorenzo Molto bella L'undici del Napoli Eccolo qua E poi Cragno e Carboni Del Cagliari Allora devo dire la verità Niente di sorprendente per ora Purtroppo No 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 Potremmo trovarli meglio Vado io Sì perché ci stanno Un'invincibile diamante Una titans Che sono 1 su 50 Poi ci stanno Le tre diciamo Semi invincibili Che sono Un muro d'acciaio titans Un cuore pulsante titans Un attacco stile di titans Che sono 1 su 25 Poi tutte le altre Sono in realtà Da 1 ogni puntina Ma sì E da 1 ogni 3 A dire noi gli squetti Sono 1 ogni 3 Quindi gli squetti Siamo trovando tanti Sì vabbè Un po' più raro Che cosa abbiamo Dai No sono queste Cioè sono le due Semi invincibili Le tre Ci sono poche Sotto rarità Diciamo Medio orale C'è più che sono le rarità Come le nuove firme Rookies Time machines Top impact Sono tutte un po' Sullo stesso livello Sì sì Sono diciamo Un livello basso Un livello Fra 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 Cosa E io Uuu Attenzione Attenzione Abbiamo Frattesi Attenzione Nuova firma Oliveira E attenzione Eccola E' invincibile L'invincibile Titans E' invincibile Quale No 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 Quale E' una delle due Invincibili Invincibili Wow Mamma mia Allora Bella ragazzi Però la vorremmo Che slivare per spizio Sì sì Che abbiamo Megnan Culebani Mobile Barella Ragazzi Bella ragazzi 102 102 306 Mamma mia La carta più forte di sempre Che carta Pazzesca Mamma mia Una su 50 bustine Pazzesca raga E' la meglio scuola Sulle score Però Però La mista Ma prendila Andiamola a slivare Ragazzi Molto Bellissima Molto bella La grafica Mi piace un sacco Richiama anche i colori italiani Ovviamente col verde E il rosso Bella Poi con i nomi Molto elegante come carta Sì 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 Mi piace Raffinata Poi abbiamo ovviamente Qui l'attacco stellare Con Bonazzoli e Giuric Poi Ampate C'è caroni c'è Che Peccato C'è proprio c'è caroni Dai E poi vabbè Povega Sì sì L'abbiamo già Andiamo con il prossimo pacchetto Oh ragazzi Mica male Mamma mia Abbiamo già trovato la bomba di questo box Mamma mia Alla prima apertura Allora andiamo con Cragno Top Impact Ancora il VAR Poi Bayerami e Zurkowski Ci hanno purgato Mamma mia Non ne parliamo di quella partita Le reaction si spregano Maietta Io sto vedendo la reaction di Fuse Gamer È bellissima Mi fa troppo ridere Poi la vedo velocizzata È ancora più bella Ragazzi è bellissima Cioè quando subito Ragazzi guardateli Sono fortissimi Io rido troppo Poi c'è dovrei Essere triste perché Ti fiammolavoli Però mi fa troppo ridere No mi fa troppo ridere Cioè rido troppo Oh Blauvich Ragazzi Attenzione Ottima 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 Bella figura Guarda Super Juventino Guardate qua Bella storia Bellissimo Vado io Set ragazzi Questo che si deve finire Perché sono poche carte Tra l'altro Risposta a chi Molti di voi ci chiedete Ragazzi ma queste sostituiscono Le Adrele No ragazzi allora Questo set sicuramente Cioè è un sottoset Delle Adrele 2022 Ma a settembre Uscirà sempre la nuova raccolta Sì Pensiamo Sicuramente Questa è una collezione E' un aggiornamento Esatto Come un aggiornamento Del calciomercato Anche io diciamo Ecco un esperimento di Panini Vedere Perché ormai è chiaro È un annetto Forse anche un po' di più Che puntano a fare molte collezioni Vedere come reagiamo Noi appunto spacchettatori A noi ci piace Ovviamente fa piacere Anche per i contenuti su Youtube Quindi nulla Andiamo con questo Penso l'ultimo pacchetto Sì dai Dobbiamo aprirne un no No vabbè Dai penso Bello pesante Bello strong Ok Cioè Aprire 9 di queste qui Vuol dire Aprire 9 euro Di bustine E Diciamo che i score Sarebbero un pacchetto e mezzo Un fat Anzi tre pacchetti retail Quindi Cioè vabbè Comunque una Sia macchina ragazzi Di altro la cosa Di cui ovviamente Uno può andare molto fiero E che sono tutte col Napoli Chiaramente Tanto io Rosico perché queste due collezioni Frate non erano ancora arrivati Questa qua ho il bordino Con lo sfondo verde E quest'altra Queste ci sono fatte tutte Da Youtuber Tutte quante Vero Mamma mia ragazzi Ne passa di tempo Mamma mia Ti rendi conto Ti rendi proprio conto Oh un bar Attenzione Mancini Ruiz Patricio Castrovilli Torreira Undici della Roma E per finire Ruiz Muriel E Duvan Zapata Ragazzi Tacco stellare Non male Dai dai Ragazzi il bottino è ottimo 8 pacchetti Ma questa Quanto è Perché io non l'ho capito L'ho detto Uno ogni 50 Mamma mia ragazzi Allora lo spieghiamo Perché questo è molto chiaro Ci sono le invincibili Invincibili Che sono una su 50 C'è la versione Diamante E la versione Titans Secondo me Diamante Potrebbe essere più Puntata magari Su giocatori giovani Ok Anche se comunque C'è Barella C'è anche Magnana Che sono giocatori anziani E poi ci sono Muri d'acciaio Titans Cure pulsante Titans E attacco stellare Titans Che sono quasi invincibili Cioè sono come dei top player Ok Ok ho capito E infatti si trovano Un ogni 25 Ok quindi era improbabilissimo Trovarle in un solo box Sì 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 Uno ogni 50 Ragazzi abbiamo sculato Ragazzi Mi raccomando Lasciate un like Se volete ancora le Titans Iscrivetevi se ancora avete fatto Beh da parola come su tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Bella